Sarà realizzato entro il 2026 il raddoppio del tratto ferroviario Empoli-Granaiolo che riguarderà circa 10 km di ferrovia sulla linea Firenze-Siena. A presentare il progetto e il cronoprogramma degli interventi l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti della regione toscana Vincenzo Ceccarelli. Il progetto prevede un investimento da parte di Rete Ferroviaria Italiana di 167 milioni di euro per la realizzazione del raddoppio ferroviario, ma non solo, sarà anche elettrificata tutta la linea ferroviaria Empoli-Siena con altri 100 milioni di euro. Questi due interventi daranno una maggiore capacità alla linea, daranno la possibilità di andare più veloci con i treni e quindi di migliorare il servizio e le condizioni di vita di tanti passeggeri e soprattutto dei pendolari che utilizzano quella linea. È un'opera completa perché vede non soltanto il raddoppio in affiancamento della linea esistente, ma anche il rinnovo di parte dell'infrastruttura ferroviaria, nonché la chiusura con opere sostitutive di 13 passaggi a livello e anche la risoluzione di alcune interferenze idrauliche, ovvero ci sono più di 10 ri che intercettano la linea ferroviaria che verranno completamente rifatti. Soddisfazione da parte del consigliere regionale Enrico Sostegni che ha sottolineato l'importanza delle due opere per imprimere un cambio di passo allo sviluppo dell'Empolese Valdelza. L'inizio dei lavori, che dureranno circa 4 anni, è previsto per il 2022.